Sono qui, per me è un sogno, ringrazio, innanzitutto ringrazio tutta la dirigenza, il direttore Daniele Fratè, il mister Montella, il mio curatore Luca Cucinelli e tutti quelli che hanno risultato per me in questa avventura. Io vengo qui umile, positivo, con tanta voglia di rimettere a disposizione e quello che mi mi semplice di più è il 3-5-2, partendo da destra, fare tutta la fascia, mi ripeto a disposizione, mi ripeto tanta voglia e determinazione, ce la vedrò tutti.